Poco tempo fa in Giovanotto stava affasciato con la testa fuori al finestrino che vicino c'era una signora che stava interessante e lui faceva vedere in un vederla quella per farci rimarcare tossiva lui niente pioveva, si fracicava tiro fuori una pasticca di rigolizia che aveva mise in mano io non potete più stanna che lì e ti la botta sulla spada dico Giovanotto, che voglio, come che voglio dico qui c'è questo, che voglio di chi? tu mi hai detto, ma che c'è, che c'è di chi? come che c'è di chi? tu me devi di chiesto, perché quando vado a Rambio non mi ricordo più quello che c'è Giovancio ma che cosa vuoi? ma tu che vuoi da me? ma che c'è scemo? perché sto scemo? poi mi dice la signora mi ricorda e dico ecco adesso mi ricordo guarda questa povera donna chiede me, ma comete ma antevergol che che ci sono da lui